Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto diffusori da scaffale Akai AWS 10W e altoparlante. Altoparlante Bluetot con batteria, a lunga durata fino ad 8 ore di musica senza l'utilizzo del cavo di alimentazione. Con ingresso jack AUX da 3,5 mm per il collegamento con altri dispositivi e l'altoparlante Bluetot Akai AWS 10BK si collega tramite Bluetot a tanti dispositivi come smartphone e PC tablets per ascoltare la musica attraverso le due casse da 12,5 Watt. È assolutamente libero da cavi ed è dotato di una batteria integrata ricaricabile a lunga durata. La cassa Bluetot può quindi anche essere portata al parco o sul balcone e sul terrazzo? Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.